Un caro saluto agli amici di qui Cosenza. Che tempo farà in questa settimana e nel prossimo a fine settimana? Ebbene, la perturbazione atlantica giunta dal centro nord nei due giorni appena passati porterà piogge tra oggi e domani, seppure non di forte intensità, anche su Cosenza e provincia. Poi tra mercoledì e venerdì arriverà una più intensa perturbazione atlantica che genererà un profondo vortice di bassa pressione tra la Sardegna e le regioni centrali e darà luogo a piogge tutti i giorni, sia su Cosenza che provincia. Piogge che saranno probabilmente anche di tipo temporalesco, specie nella giornata di giovedì quando il temporale potrebbe essere di forte intensità. Poi domenica arriva un'altra perturbazione, altre piogge, sia su Cosenza che provincia. Insomma, tutti i giorni dovete stare con l'ombrello pretta per te, mi dispiace. Un caro saluto ancora da Maria Giuliaci.